Al teatro Carignano va in scena lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. L'adattamento del testo e la regia sono di Valerio Binasco. Nella sua commedia più famosa, Shakespeare mette in scena un commedia di un'esercizio e un complesso intreccio di storie d'amore ambientate nella città di Atene durante il solstizio d'estate. In quei giorni la città aspetta la celebrazione delle nozze di Teseo e Ippolita. Un gruppo di operai, che formano una buffa compagnia teatrale, prepara lo spettacolo da recitare alle nozze, la tragica storia di Piramo e Tisbe. Proprio in quei giorni il nobile Egeo si reca furioso dal duca Teseo per denunciare l'amore tra sua figlia Ermia e il giovane Elisandro. Ermia è promessa in sposa a Demetrio per volere del padre e il duca la minaccia di morte o di esilio per convincerla a sottomettersi al suo volere. La minaccia non convince i due amanti a rassegnarsi. Ermia e Elisandro tentano di scappare insieme attraversando un bosco fatato, abitato da spiriti fiabeschi. Demetrio segue i due amanti nel bosco per fermarli ed è seguito da Elena, amica di Ermia, che è innamorata di lui. Oberon e Titania sono i sovrani delle fate e degli spiriti dispettosi del bosco. Influenzano il mondo umano e quello delle fate con i loro incantesimi. Puck, un folletto sbadato agli ordini di Oberon, incrocia per sbaglio le storie d'amore dei giovani amanti, Ermia e Elisandro, con quelle di Demetrio ed Elena, con l'uso di un filtro magico. L'incantesimo amoroso confonde i sensi e tormenta gli amanti. La discordia e il caos saranno risolti solo alla fine, grazie all'intervento di Oberon, che scioglie gli incantesimi e fa svegliare i giovani dal loro sogno, ristabilendo l'ordine. Spezzato l'incanto, si potranno finalmente festeggiare le nozze di Teseo ed Ippolita, di Ermia e Elisandro e di Demetrio ed Elena. Le celebrazioni saranno aglietate dalla rappresentazione comica e goffa della tragedia di Piramo e Tisbe, messa in scena dagli operai. Nell'adattamento del regista Binasco, il mondo umano è influenzato dalla presenza costante di forze fiabesche e mitologiche. Oberon e Titania, sovrani delle fate, sono dominati dalle loro passioni e dai loro litigi. I folletti e le fate osservano il folle comportamento umano con curiosità. La commedia è dominata dalla mutevolezza dell'amore e dalla forza che questo sentimento esercita su tutti i personaggi. L'ambientazione è divisa tra il mondo reale e una dimensione più fiabesca. Si passa dalla corte luminosa di Teseo al bosco fatato in cui Oberon e Titania sono re e regina, che si presenta come un luogo roccioso colorato di blu, con piccole caverne e via d'uscita in cui si muovono i personaggi. Il palco misura 13 metri di profondità e 10 di larghezza. I personaggi della corte indossano abiti classici ed eleganti. La coppia Demetrio ed Elena indossa abiti di colore scuro, mentre la coppia Ermia e Lisandro indossa abiti di colore chiaro e acceso. Nel mondo fatato i vestiti sono leggeri e chiari. La regina Titania indossa un vestito nero con un grande strascico. Le fate sono scalze. Gli operai indossano tute da lavoro arancioni. Quando mettono in scena piramo e tisbe, indossano maschere fatte con elementi di recupero, sopra gli elmetti da lavoro e goffi vestiti barocchi. La musica di Paolo Spaccamonti accompagna lo spettacolo. William Shakespeare nasce nel 1564 ed è considerato il più importante scrittore inglese del periodo elisabettiano. Le sue opere teatrali sono state tradotte in tutte le lingue del mondo. Ha scritto le celebri commedie romantiche Romeo e Giulietta e Sogno di una notte di mezz'estate. Le sue opere mostrano un complesso intreccio di personaggi, una poetica raffinata e un'acuta profondità filosofica. Valerio Binasco, dal 2018, è il direttore artistico del Teatro Stabile di Torino. È autore, regista e attore. Ha vinto numerosi premi. Per il Teatro Stabile di Torino ha diretto molti spettacoli di successo. Per il triennio 2021-2024 dirige la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Nei mesi passati abbiamo sentito notizie terribili di questa povera ragazza pakistana uccisa per il suo rifiuto di celebrare nozze combinate. La storia di questa ragazza è simile ad Ermia. Il nostro spettacolo sarà dedicato a lei. Si chiamava Saman Abbas. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi e modalità di accesso contattaci accessibilità-teatro-stabile-torino.it 011-5169-460 Per organizzare al meglio la tua accoglienza ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti contattandoci e specificando eventuali necessità biglietteria-chiocciola-teatro-stabile-torino.it 011-5169-555 Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e, in caso di necessità, l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Grazie. 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 Grazie.